Aveva chiesto alla madre un pezzo di focaccia, ottenuta risposta negativa e è andato su tutte le furie e ha iniziato a inveire contro di lei minacciandola di morte. A quel punto il compagno della donna è intervenuto per sedare gli animi e far desistere il giovane dall'ennesimo comportamento aggressivo e violento. Per tutta risposta il 22enne lo ha aggredito fisicamente con calci pugni. È accaduto a Modugno nel giorno di Pasqua quando i carabinieri sono stati costretti ad intervenire ed arrestare un 22enne pregiudicato con l'accusa di maltrattamenti, minacce, oltraggio, violenza e resistenza pubblico ufficiale. Nel corso di quella che doveva essere una giornata di festa si è verificata invece l'ennesima lite con l'aggressione perpetrata dal giovane nei confronti della propria madre e del compagno convivente scaturita per futili motivi ma sulla quale, secondo i militari, aleggia lo spettro della droga. Al momento dell'arrivo dei carabinieri il giovane ha perso nuovamente la testa in vendo contro la madre e il compagno e i militari intervenuti. Una volta accompagnato in caserma ed accertato che le vittime subivano da diversi anni i continui maltrattamenti, il 22enne è stato dichiarato in arresto ma il giovane, appresa la notizia, si è scagliato contro i militari strattonandoli nel tentativo di divincolarsi e fuggire. Definitivamente immobilizzato e ultimate le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere di Bari.